Se la terra vuoi salvare, in quel momento devi fermare, le regole rispettare e l'ambiente non devi sporcare. Se l'acqua vogliamo aiutare, inutilmente non la dobbiamo spiegare. Se alle nuove generazioni vogliamo insegnare, la cosa che è giusta da fare e da fare è quella di seguire queste regole per non combinare. L'ambiente pulito ci manchi e perché non c'è più un grado ferito. Per vedere un altro ambiente c'è bisogno della lente. Un tocco di magia, badatì, badatà, badatù, il finamento non c'è più.